Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale, rieccoci qui con Metal Gear Solid 5 e riprendiamo da dove ce l'avamo lasciati. Se vi ricordate bene, nell'ultimo appuntamento abbiamo iniziato con il trio rosso. Allora, io sono andato leggermente avanti per quanto basta, per l'appunto abbiamo ben tre obiettivi da completare quest'oggi. E tra l'altro, tra l'altro ragazzi, se andiamo a vedere qui sulla mappa, allora ne abbiamo uno qui al centro che si sta per l'appunto spostando, poi ne abbiamo un altro qui dove è il nostro bello cavalluccio marino. Allora, facciamo così, questo qui, dato che non mi serve più, è il bersaglio e uno qui e l'altro si sta anche muovendo. Dunque, allora, lista della missione, hai ottenuto il piano di dispiegamento, hai eliminato il colonnello, hai eliminato tutti i carri armati. No, non ancora, perché per l'appunto mi ci mancano i razzi o magari anche i cosiddetti chiamati missili. Allora, io direi di mettere il puntatore qui e di andare a farci un giretto da queste parti. Allora, io qui ho recuperato la maggior parte dei materiali. Ho anche estordito un altro po' di gente e tra l'altro mi servono per l'appunto un po' di munizioni, quindi rifornimento dei proiettili. Abbiamo per l'appunto 36.560 GMP per poter proseguire con la carriera di Metal Gear Solid V, però da quello che ho capito non ho ancora ben stabilito il contatto con i GMP. Ovvero, significa che se questi GMP mi vengono detratti, cioè io come posso fare ad andare avanti la nostra motorbase per poter per l'appunto modificare o costruire ancora altra roba? Bene, questo è un altro big problemone. Adesso per l'appunto mi ci sono fatto inviare questa roba. Eccola qua. Grazie Amazon per i suoi bellissimi pacchi. Dunque, allora, ecco qua, ole, damose. Allora, devo eliminare per l'appunto il comandante. Chi è che rompe le perotas a quest'ora di notte? Anzi, di notte, di mattina. Di mattina. Allora, Dottor House è là sotto. Allora, i tre obiettivi sono là sotto e io per l'appunto mi ci devo paracadutare da qua. Eccolo. Eccolo lì, maledetto. Mannaccia lui, mannaccia. Eccolo là sotto là. Eccolo là sotto là il maledetto che si sta spostando. Che per l'appunto... Com'è che faccio a scendere mo' di qua? Ah, ok, perfetto. Scendi di qua. Ancora? Ma come, scusi? Buon uomo. Ah, te sei qua. E chi ti aveva visto a te? Ciao caro, buon riposo. E mi raccomando, riposa bene, eh. Non te sta preoccupa'. Aspetta, buon uomo là, che ti ci porto subito a casa. Cioè a casa. Alla nostra motorbase, su. Ecco qua. Perfetto. Ciao, ciao caro. Buon divertimento, mi raccomando. Dunque, dunque. Allora, se... In tal caso... Ah. Bene. Perfetto. Si è anche spostato il signore. Benissimo, benissimo. Vediamo un po' di capirci robe, ragazzi. E vediamo un po' di capirci robe. Dunque, allora, andò cavolo, se trova sto tizio, dovrebbe essere per l'appunto qua davanti. Che io sappia si dovrebbe trovare da qua davanti. Perché se no, va a finire che non ci capisco più niente. Allora, mettimi il segnalino qua. E damose. Dunque, allora, devo arrivare a ben 140 metri. Aspettate, perché là davanti c'è un signore. Eccolo là, per l'appunto. Che poi voglio dire, no, ma che cacchio ci fai qua? Ok, addormentato. Olè. Perfetto. Che poi no, voglio dire, che cacchio ci fai qua tutto solo sul letto? Gli amici tuoi non ti hanno portato con te, eh? No, credo proprio di no, raga, eh. Credo proprio di no. Credo che l'hanno lasciato proprio lì, abbandonato, come se non ci fosse un domani. Aspettate, ma, ok, allora, eliminati tutti quanti gli indicatori, almeno così riesco a capire cose. Dunque, allora, mo qua è una impressione malissima. Dunque, allora, mi servono per l'appunto i colpi molto molto più avanzati. Dunque, allora, questo qua è un faquel. Lancia granate. No, non mi serve il lancia granate. Perché, per l'appunto, mi serve lancia granate stordente, revolver, lancia granate. No. Eh, e mo qua so cacchi, son. Do cavolo li vado a fa' mosti così. Mitragliatrice le gira. Eccolo qua. Lancia razzi. Questo mi serve, questo qua. Ma non lo posso fare perché non c'ho abbastanza GMP. Bene, bene, perfetto. Eh, qua mo sì che so cacchi, raga. Mo qua sì che so cacchi. Non posso farli. Non posso per niente fare nulla al mondo. Perché cosa? Perché, per l'appunto, mi ci mancano sti benedetti GMP. Piano, piano. Fammi guardà qua chi c'è prima. Allora, gli ostacoli. Cioè, gli ostacoli. Cari buonuomini e simi signori dovrebbero essere dall'altro lato. Fatemi d'annocchiata. Sto ad andare in zona unità di spionaggio. Quindi ho trovato anche questa. E ok, vai, sali a bordo del cavallo. Andiamo a vedere, ragazzi. Andiamo a farci un giro da quel lato. Vediamo un po' che cavolo riusciamo a trovare. Volo di recupero. Ok, perfetto. D'accordo. Che poi non so nemmeno il comandante dov'è che si trova. Cerchiamo di avvicinarci più a lungo possibile. Ah, 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 aspetta, aspetta, aspetta. So 300 metri. Vai, corri cavallo laggiù, zenzera. Corri cavallo laggiù, zenzera. Aspettate, vogliamo vedere che ci sta in queste case. E se ci stanno magari un po' di combustibili, carburanti, eccetera, eccetera. Mannaccia la miseria. Ma non c'è niente per me, eh? Annaccia. Vai così, caro. Vai così. Secondo me qua, ragazzi, ho sbagliato tutto. Ho sbagliato letteralmente tutto perché non riesco a capire come cavolo posso... Eccoli. Eccoli. Allora, ne abbiamo uno. Ma che cavolo hanno fatto? Ma si sono incastrati... Guardali. Guardali. Guardate questi, ragazzi. Che cavolo stanno a combinar questi quattro maledetti. Ma pensa un po' te. Pensa un po' te allo so due. Ehi, guarda qua. Toto. Guardate qua che cavolo sta succedendo. Allora, quello là per l'appunto lo devo fare fuori. Poi c'è il suo amichetto per l'appunto che tutti e tre i carri armati più per l'appunto questo, ma si sono bloccati. Cioè, ma si sono bloccati l'uno con l'altro. Cioè, questo qua avanti non parte proprio. Quello là sta slittando a momenti fei fossi a terra e mi consuma le gomme. Quell'altro là dietro invece è rimasto bloccato perché c'è sto minchione qua davanti che non riesce a partire. Quindi io mi ci posso fare molto molto tattico. Ma qua era per l'appunto una cosa molto molto facile. Per l'appunto beccare il signore con la mitraglietta. L'unica cosa che posso fare è, in tal caso, avvicinarmi d'accordo. Però 36.510, ma sono veramente tanto pochissimi sti cavolo di GMP. Spettate raga, aspettate che mo faccio una cosa figa. Guardatelo, guardatelo raga. Sta slittando come se non ci fosse un domani sto tizio. Oddio, mi hanno sgamato raga. Sì raga, mi hanno sgamato, mi hanno sgamato di brutto, mi hanno sgamato di brutto. Ma che te rispondo, ma che boss. Ma perché sono morto, che ti devo rispondere? Sti cacchi ti devo stare a rispondere. Eh, forse ti occupa... Oh oh. Oh oh. Mannaggia loro, mannaggia. Dai e che te ci mori. Oddio, oddio, no 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 no. Ok, mi sa che lui è andato, mi sa che lui non è ancora andato. No raga, no raga, mi servono per l'appunto i lanciarazzi. No ragazzi, non posso fare niente, non posso fare niente perché non c'ho i lanciarazzi. Ma che boss è boss, io ho capito che sono boss. Però non mi devi manco rompere le perotas, dai eh. No ragazzi, no, non ce la posso mai fare così perché non c'ho... Vabbè, ma lanciando le granate... No raga, no raga. Se forse magari me ne vado al lato suo, non mi possono mai beccare. Sì, certo, come no? Wow 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 wow. Queste qua raga mi stanno a correre dietro, mi stanno a correre dietro. Oh, dov'hai te tizio buon uomo, mannaggia. Eh, no, niente ragazzi, no 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 no. È molto molto difficile, mo sta cosa qua è molto molto difficile perché comunque... Ma che te devo dire, ma state zitto. Perché comunque sia, mo mi fa ricominciare per l'appunto da sto punto quando i tizi e i miei signori per l'appunto si mettono... Ecco là. Aspettate, aspettate, aspettate. Ecco qua, perfetto. No, no 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 no. Cacchio, 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 cacchio. Ecco là. No, niente ragazzi, no 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 no, non ce la posso mai fare così, non ce la posso mai fare così. No perché non c'ho lo sviluppo delle armi, non c'ho lo sviluppo delle armi. E questo ragazzi è un big problemone, ma dove cavolo mi ci posso andare a nascondere io? Per l'appunto, forse magari da qua sopra? Ce la potrei fare, ce la potrei fare ragazzi. Vabbè, che tanto muo loro qua cavolo, vedono un cacchio di, 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 di cavallo. E per l'appunto si sono fermati, no? Si sono fermati però comunque sia continuano a camminare. Bene, perfetto. E questo qua mo' di sicuro lo vado pure a perdere. Ok, obiettivo eliminato. Ok, secondo obiettivo eliminato. Ora elimina quei carri armati, sì, ma come cavolo te li faccio eliminare? Mannaggia te. Uno se ne sta andando raga, uno se ne sta andando. E ok, quindi perciò se rimango qua credo che forse problemi non ne dovrei avere. Però uno è ancora rimasto a terra vivo. Ok, uno è andato ragazzi, uno è andato. E d'accordo, l'altro se ne sta andando per l'appunto. Perché sta ancora camminando. No ragazzi, io non, non, non riesco proprio a craftarmi le armi raga. Non riesco proprio a craftarmi le armi. No, 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 ragazzi. Ci vogliono 12.000 e passa di XP. Di MPX. Non soddisfatti. Ok, mannaggia la miseria, mannaggia. E mo' come cavolo faccio io? No ragazzi, no. E' una cosa quasi impossibile. Oppure forse no. Oppure forse magari no. Se in tal caso riesco a pigliare il... Che poi comunque sia, non riesco manco... Mannaccia la miseria. No raga, 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 no raga. Ma l'unica cosa era quella là di prenderli e di seguirli, per l'appunto. Mannaccia la miseria, oh. Mannaccia la miseria. Mannaccia la miseria. Come cavolo faccio io mo' qua? E dai, eh. No ragazzi, ho sbagliato tutto dall'inizio perché... Non ce la faccio per l'appunto a far fuori quei due cavolo di cosi, i due carri armati. No ragazzi, non ce la posso mai fare perché è molto molto difficile. Perché per il semplice fatto che comunque sia, voglio dire, no, non c'ho l'arma adatta per poterli far saltare in aria. Ovvero il lanciamissili, i lanciarazzi. Che cavolo è lui? Mannaccia la miseria, mannaccia raga. E che cos'è mannaccia a me, mannaccia. Aspettate che forse magari ce posso pure riuscire. No ma di sicuro... Oddio ce l'ho fatta? Ma siete seri? Oddio siete seri? Ragazzi ce l'ho fatta. No ragazzi ce l'ho fatta. Non ci posso credere ma ce l'ho fatta. Forse magari ce la posso fare pure con quell'altro, dai eh. Oddio, oddio. Oh maronne santissima. Attenzione qua raga, non consumiamo tanti proiettili perché questi qua non me ce servono. Me servono per poter abbeccare l'altro. Da dove cavolo mi si sono andata a incastrare ma ma porca di quelle per porca. Dai, dai che ce l'abbiamo fatta raga. Ok. Cacchiarola. Oddio. No, 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 no. Non ti incastrare, non ti incastrare qualsiasi cosa succeda. Non ti incastrare, non ti incastrare e non ti capovolgere nemmeno maledetto. Do strunz del cavolo. Mannaggia a te, mannaggia. Eh no raga, eh no raga, eh no raga da qua, da qua, da qua. Maronne santissime che bel coscietun. Dai eh. Fan club, damose, 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 dove vai, damose, damose via di qua raga, damose via di qua immediatamente che poi questa qua voglio dire no? E' la scorsa missione del cacchio che avevo fatto l'altra volta dove dovevo recuperare per l'appunto quella dannatissima arma del cacchius. Dai, damose riga, dai, damose riga, dai, mannaggia la miseria, dai, che qua me ce stanno a conficcare di tutto e di più. Ecco là, copi di mortaio, tacci vostra, tacci vostra, che cos'è, guardate che ve metto sotto, oddio santerrimo, oddio santerrimo raga, damose, damose via di qua, me che non si dica. Cacchiarola, cacchiarola, cacchiarola dei buddhas, eh dai, posso lasciare la zona e che lo sa, boh, va capi? Fatemi da un'occhiata, dove sta quella? E niente ragazzi, niente, allora, arrivati a questo punto io direi quasi quasi di completare qui questo nuovo appuntamento per l'appunto della serie di Metal Gear Solid 5. Dunque voi mi raccomando, come sempre, lasciate like, commentate, iscrivetevi e attivate la campanellina e mi raccomando, noi ci si becca in un prossimo video. Ciao ciao ragazzi! Ciao ciao!